Ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, ben ritrovati all'appuntamento del mattino delle 7.30 in diretta con la rassegna stampa, occhio ai giornali che come sempre da lunedì al sabato vi accompagna, vi dà il buongiorno dandovi anche la possibilità di uscire di casa informati che non è poco. Allora cominciamo dal santo del giorno intanto, il santo di oggi è San Felice da Cantalice che è una località vicino Rieti dove è vissuto questo frate nel 1515, il frate della Questua, così viene definito, andava a chiedere l'elemosina per i poveri. Il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.31, il tempo per oggi in attesa del peggioramento di domani, vedete è un tempo variabile con temperature in aumento ma domani ecco la perturbazione che porterà a tanta pioggia, precipitazioni sparse anche nel pomeriggio a prevalente carattere di rovescio o di temporale, non si escludono locali fenomeni di forte intensità, le temperature sono in aumento nei valori minimi temporali che rimarranno ancora attivi nel corso della mattinata di venerdì 20 di maggio, soprattutto nella parte interna della nostra regione, mentre sulla costa vedete il tempo via via andrà migliorando nel corso del pomeriggio, le temperature sono in lieve diminuzione. C'è un'alta pressione che poi porterà il miglioramento del tempo durante il fine settimana con cielo sereno e temperature in aumento. Neanche fossero le elezioni presidenziali americane, ebbene tanto clamore stanno suscitando in queste ore, soprattutto per il risultato, l'esito delle votazioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente carnevalisca, come immagino ben saprete, è finito con un clamoroso pari, 9 consiglieri per quanto riguarda Cicchini e 9 consiglieri per Pacassoni, di conseguenza fate voi un po' i calcoli, essendo un pareggio sarà difficile in queste condizioni eleggere il nuovo presidente per i prossimi tre anni. Ma c'è anche la notizia della scomparsa di una ragazzina di 15 anni, di cui non si sa più nulla, a Fano, da Fano, da un istituto di accoglienza dove si trovava da un po' di tempo. Allora cominciamo dalla prima pagina del messaggero, il quotidiano romano, con l'inserto pesarese. Intanto la foto della ragazzina di 15 anni, eccola qui, Diana, che si è allontanata da questa casa famiglia, questa è la sua fotografia. Ma il titolo è per l'ospedale unico, la vicenda di Fosso Segliore, l'alto là dei sindacati, CGL e Cisleville vogliono l'ospedale unico, ma hanno forti dubbi sull'area e sulle modalità. Minardi del Partito Democratico dice basta temporeggiare, mentre Ruggeri del Movimento 5 Stelle invita Ceriscioli ad ascoltare la città di Fano. Bagarre a virus, il programma di Rai 2 sui vaccini, Burioni, il pesarese Burioni, querela Redronni, l'immunologo parla di risarcimento che in caso di vittoria al processo verrà devoluto per la ricerca. Franchi, l'ex primario, l'Asur non accetta la sua offerta, avanti dunque con il processo, la proposta del pediatra ex primario del Santa Croce accolta solo a titolo di acconto. Entriamo nelle pagine interne, dalla pagina delle Marche, un solo portaborse a chi cambia casacca. A 24 ore dall'inizio della maxiudienza delle spese pazze, il Consiglio regionale vara un'altra norma restrittiva sui conti. L'ex grillino Bisogni non rientra perché la legge non è retroattiva, ma attacca Maggi, ne servono due. Questi sono inciuci con il Partito Democratico. Sì, alla polizza collettiva. Di che cosa si tratta? Ne parliamo un attimo. Dalla pagina di Pesaro arriva la notizia che il Comune sta organizzando, e adesso parlerà con le compagnie assicurative, una sorta di polizza assicurativa per chi è vittima di furti. Se ne sono inventato un'altra questi pesaresi. Eccola qua. Dopo l'unanimità per la mozione di Dall'Asta, che è della lista Siamo Pesaro, si passa adesso alla fase operativa. E sono pronti, dice, siamo pronti a partire da settembre. In pratica verte tutto sul tema della sicurezza e della legalità, che preoccupano un poco i pesaresi, ma non solo loro, evidentemente. Ebbene, è una cosa che si è proposta già nelle varie città del nord. E allora si sta pensando di farlo anche a Fano. Allora, gli assicuratori adesso verranno convocati, ci sarà questo incontro. In pratica prevede che con una spesa di 30-40 euro un cittadino potrà essere assicurato contro furti, scippi, atti vandalici e scassi. Non solo, anche gli anziani che ritirano la pensione e dovessero subire un furto potranno denunciarlo entro un paio d'ore e riottenere la pensione persa. Chiaramente gli assicuratori faranno tutte le necessarie verifiche, ma questa è un'opportunità per i cittadini, perché potranno, a cifre ragionevoli, avere un massimale da 1.500 a 3.000 euro. Questa è la notizia che troverete, che potrete anche approfondire acquistando il messaggero questa mattina in edicola. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, è pronto, dice, siamo pronti ad accogliere i turisti, tanti cantieri aperti in città, il sindaco detta la tabella di marcia, i lavori devono essere conclusi per il ponte del 2 giugno, Viale della Repubblica, Piazzale della Libertà e Baia Flaminia, l'amministrazione sta preparando appunto tutte le inaugurazioni. E ancora, dalla pagina del messaggero, i sindacati, Altolà a Fosso Segiore e Progetto di Finanza. CGL e Cisle Will vogliono l'ospedale unico, ma hanno forti dubbi sull'area dove costruirlo, cioè su Fosso Segiore e sulle modalità scelte dalla regione. Minardi, basta temporeggiare, dice. A proposito di tempo, guardate la fotografia, 20 anni di meno. Appello a Ceriscioli, ascolti, i 4 mila di Fano sono quelli che hanno firmato, tante sono le firme raccolte per il referendum, Marta Ruggeri fateci esprimere le nostre idee. Poi dalla pagina di Fano invece, anche qui a tutta pagina, il carnevale, carnevalesca avanti coi carristi. Rivedendo, parafrasando un po' il vecchio motto di Alfredo Pacassoni, Pacassoni avanti coi carri, che veniva citato e che veniva annunciato al microfono e diffuso su tutto il percorso tanti anni fa, Pacassoni avanti coi carri era un po' l'invito a far partire poi la mascherata. Carnevale avanti coi carristi, invece, Cecchini stoppato da Pacassoni, gli outsider del comitato hanno eguagliato il numero dei consiglieri del Presidente uscente, il direttivo, quindi 9 a 9, il direttivo dell'ente è ora diviso a metà, 9 esponenti per entrambe le parti, il rischio è chiaramente adesso lo stallo, la paralisi praticamente di questo, di tutto quanto. Nella fotografia vedete Pacassoni, mentre nel tondo qua in alto il Presidente uscente, Cecchini, clamoroso colpo di scena al termine dello scrutinio per il rinnovo dei vertici. Mentre qua vedete Società Autostrade, allora Società Autostrade qual è la novità? Se possiamo definire la novità, però Società Autostrade tratta adesso per gli espropri, avanza una sorta di trattativa lungo il tracciato della futura complanare, le opere compensative della 14. Nella giornata di ieri i funzionari di Società Autostrade si sono incontrati nel quartiere di Sant'Orso con alcuni proprietari di beni immobili da acquisire in parte, ma le condizioni sono ritenute tutt'altro che favorevoli. Poi altre notizie che troverete sempre sulle pagine locali del messaggero, noi adesso invece apriamo quella del Corriere Adriatico. Dal Corriere Adriatico partiamo dalla pagina di Fano. Cecchini stoppato un pareggio in consiglio, la lista Carristi sfonda, nove consiglieri contro nove, l'ex presidente dice facevo una sagra, ora con loro io non ho nessuna intenzione di collaborare, collaborare con chi appunto ha denigrato il lavoro svolto fino a quel momento. Al terzo triennio non c'è stato il plebiscito personale atteso, si sospetta anche il tradimento di 300 voti. Soddisfatto Pacassoni invece che dice l'aumento dell'affluenza è merito nostro, speriamo, in una stagione di intesa. Dunque c'è questa volontà chiaramente da parte dei Carristi di collaborare con il gruppo della lista di Cecchini, Cecchini vorrebbe tornare a votare, è un po' difficile la questione, non credo che sia la strada migliore quella di tornare a votare, uno perché anche visti gli intoppi, le lungaggini eccetera eccetera, molti non tornerebbero alle urne e se tornerebbero, tornerebbero sicuramente quelli che spingono per mettere i Carristi sulla sedia del regista. Ma comunque questo è un altro discorso, l'importante secondo noi in questo evento secondo me è trovare una via d'uscita e soprattutto ognuno faccia un passo indietro e trovare una, con un po' di umiltà, trovare un'intesa per il bene soprattutto della città e per il bene del Carnevale. 15enne scomparsa, non è la prima volta, questo è il titolo che riguarda la 15enne che se n'è andata dalla casa famiglia. L'Isippo invece oggi il giudice decide sulla revoca della confisca. Seconda udienza del processo bis di appello, l'istanza presentata al tribunale dall'avvocato del Gheetti Museum. Sempre dal Corriere Adriatico, Fano di Canola, ospedale unico, è l'invito del sindaco di Pergola Baldelli che incalza il suo omologo Seri, solo così manterrà il ruolo guida nelle due vallate. Atti contradditori della regione, ma conta il piano che è legge, un solo nosocomio senza eccellenze. L'Asur adesso vuole 140 mila euro da franchi, l'ex primario come acconto gliene ha dati 43 mila, il giudizio abbreviato è stato fissato per il prossimo 20 settembre. Oltre alla percentuale non versate per le visite in Tramenia, chiesti anche i danni di immagine da parte appunto dell'Asur. Unioni, siamo a Monte Felcino, lo sprint rinviato a dopo le elezioni. Le città, i paesi di Fossombrone, Urciano e Barchi attendono l'esito delle prossime amministrative del 5 giugno prima di aprire i processi di fusione. Sono nove in tutti i comuni avviati nel percorso unitario, si registrano passi indietro a Cartoceto e Monte Felcino. Andiamo ancora avanti con il quotidiano delle Marche. Dalla pagina di Pesaro Ceriscioli nomini l'assessore alla sanità e l'invito dei sindacalisti Morbidelli della UIL, Ricci della CGL e Tonelli della CISL. Su personale, posti letto, mobilità passiva per i sindacati, la situazione è opaca e insostenibile. L'altra pagina invece del Corriere sulla pagina su Pesaro e Provincia sarà il giorno delle inaugurazioni, il 2 giugno, taglio del nastro per Piazzale della Libertà e le due nuove piste ciclabili. Andiamo a Senigallia, velocemente. Alcol e minori, tolleranza zero. C'è stato un vertice tra il sindaco Mangialardi e il prefetto, la lotta agli abusivi in spiaggia è un'altra priorità. Sempre da Senigallia, la notte dei ladri, due ride in un'ora. Fallisce l'assalto al postamat di Ostra, banditi in fuga con la cassa di un distributore sulla statale Cesano. Adesso il resto del Carlino. Questa è la prima pagina. Con imprenditori si nasce la fotonotizia di queste ragazze, studenti delle superiori che creano società e gareggiano per le aziende, per l'azienda migliore. Alla fiera finale la vittoria del packaging per magliette che diventa amplificatore. Dunque questa è la notizia d'apertura. Poi come vedete sotto la testata la carnevalisca diventa una faida, pareggio infuocato, Cecchini salta. Entriamo allora nelle pagine interne del quotidiano con la pagina di Fano, il mistero di Diana, 15 anni, svanita nel nulla da due giorni, la ragazza era ospite di una casa famiglia a Fano, la madre ha lanciato anche l'allarme, lunedì mattina è uscita di casa per andare a scuola ma in classe non è mai arrivata. Da 48 ore sono in corso le ricerche disperate della 15enne nata a Madrid. Da molti anni la ragazzina viveva a San Ginesio con la madre, l'argentina Sandra Carina Romeo. E dunque adesso si spera che si faccia viva. Non è la prima volta, abbiamo già visto dal Corriere Adriatico, non è la prima volta che questa ragazzina esce senza far rientro. Poi per fortuna si è sempre trovata è sempre stata ritrovata la soluzione quindi ha sempre deciso di tornare. Speriamo che faccia così anche questa volta. Mentre sempre sulla pagina di Fano, Bellocchi, altro incendio, il comitato fa pressione sulla qualità dell'aria, l'ARPAM rassicura invece sui dati. Andiamo avanti, ancora, ecco le due pagine, due sulla carnevalesca nel caos. L'ira funesta del Cecchini Furioso. Io con loro non mi mescolo. Forse è meglio tornare a votare. Il fronte degli sconfitti dopo la maratona. Ricordiamo che ci sono voluti 48 ore prima di avere lo scrutinio definitivo, prima di avere i risultati definitivi. Le minacce. Vi faccio rispuntare Dario Fomi. Mancano 300 voti. Chi è che ha fatto il doppio gioco? Si domanda qualcuno. Al quarto eletto invece dicono il fronte dei vincitori, quindi dei carristi. Al quarto socio, al quarto nominativo eletto, eravamo già felici. Poi quando abbiamo visto che ne avevamo eletti nove è stata l'apoteosi. Parla la capitana dell'ammutinamento al presidente uscente, Maria Flora Gianmarioli. Voglio mettere un cartello all'entrata della carnevalesca con la scritta. Si accettano consigli. L'altra pagina, l'aggancio clamoroso di Pacassoni. Ora si teme il muro contro muro. L'ente è spaccato in due. Nove con Cecchini, nove con gli altri. Tutti gli eletti. Spero venga usato il buonsenso, dice il sindaco di Fano Seri. Dobbiamo volere tutti bene il carnevale, altrimenti è un casino. Attendiamo decisioni. Poi a dicembre ci muoviamo. Il grido di Fabiola Pacassoni, invece finalmente quest'anno ci saranno i carri, ha detto la sorella dello storico carrista Alfredo. Poi il punto di Tiziana Petrelli. Una guerra inutile, ma dopo il pari si spera nella pace. Ancora per chiudere il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Il galà dei commercianti sta bruciando tutti i record. La categoria svegliata da un evento tutto suo. Oltre 60 le attività coinvolte. Da Orciano invece il paese è lasciato da noi. Gli uscenti, pessimi elezioni. Il candidato, parla il candidato Marco Gasparini. Direi che possiamo fermarci qui con la rassegna stampa. Non c'è altro. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale. Occhio alla notizia. Arrivederci.